O Dio vieni a salvarmi, gloria al Padre e al Viglio e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri dolorosi. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'olto dei murini. Chiediamo aiuto alla Madonna che partecipò in spirito a tutta la passione del Signore anche non essendo sempre presente con il corpo perché ci aiuti a pregare questi misteri dolorosi entrambi, un pochino almeno, il mistero immenso dell'amore di Gesù offerto per l'amore nostro cominciando dalle tre ore, tre lunghe ore di agonia del Getsemane. Dio benissimo in quel momento sentì il carico di tutti i cari del mondo, sentì, cominciò a sentire, che è un'esperienza per noi incomprensibile, ancora più in quanto capitata alla seconda persona della Santissima Deità, dell'abbandono del Padre. non vado a fare assolutamente morire e annichilire qualunque pura creatura che solo allontanamente percepisce una posta di questo genere. E contemplare la scena del Getsemane che significa però sempre, al mio avviso, non dimenticare quella scena tragica, drammatica. Gesù che, proprio perché privo del conforto del Padre, chiede aiuto ai suoi amici, con i tre, gli stessi tre che erano con loro sulla trasfigurazione, le tre colonne, con tre stati eccellenti della vita della Chiesa, i dottori, i vergi, i martiri. E cadono anche loro, in quel momento non ce l'hanno fatta a pigliare un po' con Gesù, no? Questo è anche il fondamento del valore immenso che la Chiesa ha sempre attribuito alla preghiera notturna, alla veglia, ecco, anche alla piccola veglia che stiamo presento, perché è un modo in cui appunto si offre un sacrificio che, travalicando i confini del tempo, ripara. La notte o uno è stanco, c'è soffro, la notte è stata fatta per dormire, e lo sappiamo, certo che è stata fatta per dormire, a meno che non succeda una tragedia come la cattura di Gesù, per cui o le tragedie che succedono adesso nel mondo, insomma, quindi l'avalanca di peccati che siamo tramuota, morti, il fatto che purtroppo le notti, quelli della concorrenza sarebbero riservi del mondo oscuro, che fanno di tutti i colori, non soltanto con i peccati, ma anche con altro, purtroppo. E c'è bisogno, come disse a un certo punto Gesù, quando andò per l'ultima volta di chiamare gli apostoli prima della cattura, dice, sono gente, cercate di dimostrare al mondo che i figli di Dio non dormono, disse ai re, una parola che potrebbe risuonare nel nostro cuore. Cercate di dimostrare al mondo che i figli di Dio non dormono, ma possibile. I cattivi devono essere così solleciti nel male, fanno le 5 della mattina per fare tutte quelle schifezze che fanno. E noi siamo buoni neanche a, come disse Gesù, un'ora sola con me. Non ci chiede di tanto, veramente. Sì, le nostre vede sono un po' più lunghe, insomma, però pazienza, insomma. Chiediamo davvero al Signore la grazia di comprendere del valore, ecco, dello stare con lui, anche il valore di paratore, ecco, del fargli compagnia e del nostro mostrare di noi ci siamo. Noi siamo con te, veniamo con te, siamo al tuo fianco, accontenta di come poco che siamo, perché qui c'è poca ombra, però con quel poco che siamo. Noi ci siamo e siamo con te. Padre nostro, che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il Cielo e così per me. Lasciaci il nostro padre quotidiano e vinta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci dure in tentazione, ma liberaci dal mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto tutto, detto Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto tutto, detto Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è contento, sei benedetta fra le donne, benedetto tutto, detto Sino Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo segno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano i figli di loro essi. O Gesù mio, perdona le nostre morte. Preserva il cielo, fogo dell'inverno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose del tuo segno. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla buona. Questo mistero che sentiamo essere particolarmente espressivo della violenza che si è scatenata impetuosa e devastante sul corpo santissimo di Gesù, procurando i pene di principi dal punto di vista esteriore. Sappiamo benissimo che tutta la tradizione spirituale, la scelta cristiana ha interpretato questo carico dei dolori inauditi come il prezzo del riscatto da tutti quanti i peccati impuri, consulni. E sappiamo anche come i santi di ogni epoca, non solo i nanti, ma anche i santi, hanno imitato Gesù nel offrire, come abbiamo sentito prima, nella lettura spirituale, l'eroesimo del santificio. A fianco a Gesù nel Getsemani si sta vegliando e pregando e a fianco a Gesù, l'agentato, si sta soffrendo. Come, dove, quanto. Questo certamente dipende dalla condizione soggettiva, delle anime, dalla salute fisica e mentale. e i sacrifici devono stare sempre molto attenti a viverli in una retta maniera. Però certamente dobbiamo pensare che non si tratta di cose passate di moda. Io su questo sono sempre stato sensibile. Quando leggevo la segnalista, tutte quante le mire dei santi, con quello che abbiamo combinato, tutte le cose che hanno fatto i santi ci lasciano la bocca aperta e mi chiedono sempre di domare. Queste sono esagerazioni di altre idee, quindi sono archivi storici, roba da medioevo, massimo rinascimento, sotto la Santa Forza, che era quasi al 1800, insomma, no? o testimonianze certamente eroiche, certamente le grandi asferite dei santi, quelle che queste rene sono più da ammirare che da imitare. Però tra quello e niente c'è una differenza, no? Ecco, questo per dire che nelle anime dei fedeli, degli amici di Gesù, ecco, ci sia sempre la disponibilità anche all'ascolto di ciò che delicatamente, attraverso l'emozione della grazia, il Signore ci fa capire essere gradito. E' ostacolo a questo il pensiero che Dio non voglia più, che non si sa quale mistero, dall'uomo di oggi, nessun sacrificio, nessuna meditenza. Non basta ripensare ai pastorelli di Fatima, canonizzati quando è stato nel 2017 dal Papa, anche se era nel centenario di Fatima, la testimonianza che hanno dato i pastorelli di Fatima, i bambini che veramente hanno fatto dei sacrifici sproporzionali a bambini di 8, 9, 10 anni, ecco, ci ricorda che qui non sono cose passate di nuova e che, come disse la Madonna ai pastorelli, Dio è contento e ha bisogno dei vostri sacrifici. Offrite sacrifici, preghiere e penitenze, perché la gente va all'inferno, perché non solo non c'è chi prega, ma nemmeno chi si segniga per loro. Questo era vero ieri, è vero oggi e sarà vero sempre. Padre vostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci ridurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glodi al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le amiche, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero doloroso, in coronazione di spine di Gesù. Anche qui sappiamo dagli scritti della serva di Dio, di San Carretta, la ricorrenza del numero tre della passione. Tre ore di agonia nel lotto dei tuoi libri, tre tipi di flagelli pesati per Gesù, tre flagellazioni, tre colonazioni di spine. Dopo la flagellazione, prima di ricominciare, di cominciare la via Lucis, quando fu rivestito delle sue vesti, spogliato della polpola, e poi sul calvario, sono tolte le vesti, quindi non strappata la roba di spine di messa. Gesù stesso, nell'ora della passione della serva di Dio, descrive assolutamente l'atrocità, il discipile, con questa tortura, che è anche questa roba. penso che per quanto la fantasia possa sforzarsi, non possiamo non cedere, io credo che non possiamo non cedere, non possa aver provato il capo di Gesù durante questa tortura inaudita. sappiamo, insomma, che Santa Rita da Caccia, dove il dono di una spina nella fronte, ha lasciato scritto, insomma, una sola spina, i dolori inancitanti, incredibili, che provocavano, insomma, prima di darla anche la mente, in alcune giornate. Una. C'è che Gesù che non arriva, non si sa, sono date, che tipo di fasce di spine che c'aveva, i dettagli che descrive l'errore della passione, che trapassano le tempie, che ci sono le entrate, dentro il crano, fino alla borga, proprio con un rame, insomma, tutte le orecchie. Una cosa lucidante. E pensate che Gesù soffortò questa tortura per riparare una serie di peccati che sono i più diffusi, e i più commessi e a cui per la mente si fa attenzione. Sono i peccati di pensiero. Tutto comincia dal pensiero. La Chiesa si fa nella sua sabienza, dire, nell'atto penitenziario. Ho molto peccato in pensieri, parole, ove, commissioni. Quello che pensiamo, la Madonna del Magnificat dice, ha risparso i superbi nei pensieri del loro cuore. Gesù che conosceva i pensieri, sapeva quello che c'era, no? Anche quale giorno di questa domenica, no? la domanda tendenziosa che facevano i quali disegni, i dottori della legge. Apparentemente sembrava una cosa assolutamente innocua. E Gesù conosceva i pensieri ed erano pensieri brutti. Chiediamo al Signore in questo mistero, tendoci dinanzi alla tragedia dell'incoronazione di spine. Possiamo, piano piano, acquisire una sensibilità, una delicatezza di coscienza, ecco, anche per conoscere e comprendere come nel pensiero offre gli amantico ed anche la coscienza, la consapevolezza che Dio e i nostri pensieri riconosce ed è anche negli movimenti, insomma, delle nostre anime. E lo vediamo al Signore in questo mistero. Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione e non ci indurra in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi becatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, presenta il cielo del fuoco e dell'inferno. Poglie in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. e il quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Gran Mario sotto il teso della goccia. Anche in questo mistero ricordiamo la presenza, numero 3, cosa vuol dire in cadute la tradizione della Chiesa si è consegnato a proposito delle cadute di Gesù durante la via dolorosa. Anche gli incontri di Gesù che incontra sua madre, incontra la Veronica, incontra le vie donne, questi tre incontri persone, personaggi, eroici, capaci di stare vicino a lui, di metterci la faccia diciamo oggi, assolutamente di non vergognarsi, di stare con Gesù quando tutti stanno contro di lui, di stare dalla parte giusta quando tutti stanno dalla parte sbagliati, di non avere paura di soffrire con lui e di essere messi alla pubblica voglia e all'odiprio. Sono cose molto importanti questi. Stare vicino a Gesù che percorre la via dolorosa significa fare quello che ha fatto Maria Santissima, quello che ha fatto la Veronica, non vergognarci mai di qualche gesto d'amore da fare al Signore, mai, per nessun motivo. Ci prendano pure in giro, ci considerino ridicoli, obsoleti, anagonistici, medievali, oscurantisti, bigotti, è una grande offesa per qualcuno che sentessi dire bigotto, questo è proprio il top. Noi lasciamo tranquillamente cantare ma non ci si muove di un millimetro come la nostra è un onore essere insultati e messi a un libro per il nome di Gesù. Una piccola riflessione anche qui in particolare che chi prega allora della passione della serva di Dio di San Interretto l'ha notato, la viaga sulla spalla di Gesù una delle piaghe dolorosissime che non si vedeva perché la spalla di Gesù era coperta dalla veste con la croce con la sopresantezza ecco lascerò la spalla traversando la veste era una piaga però non visibile certo poi quando fu denudato si vede anche quello e nell'ora della passione si legge che quella dolorosissima piaga era per i peccati occulti perché producono pancreme ignote e tra l'altro non riparate particolari molto interessanti i peccati occulti sono quelli che noi non conosciamo essere tanti oppure e questo è peggio quelli che vengono dolorosamente occultati in sede di confessione per vergogno o per paura in ogni caso sono peccati che appunto producono pancreme perché non ci passa sopra l'antidolo del sangue di Cristo e non vengono riparati dalla nostra venidenza quindi se sappiamo di aver occultato qualche peccato in confessione per quanto vergognoso sia affrettiamoci ad andare a raccontare ricordando che la vergogna dei peccati dobbiamo averla davanti al Signore quando li commettiamo non davanti al confessore quando li confessiamo e chiediamo la luce al Signore per conoscere se ci sono peccati occulti cioè cose che non facciamo nell'ignoranza non sapendo essere non credite in occhi di Dio ma che non per questo si sono gentilmente mali non per questo cessano di produrre mali e cancrene in noi e fuori di noi che sei in Cegno sia santificato il Tuo nome venga il Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in Cielo e così in Terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri di Vitori e non ci dure in tentazione ma liberaci da l'Ale e l'Ale Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amore gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era il principio e ora è sempre nei secoli dei secoli amore o Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo specialmente le più bisognose della Tua misericordia quinto mistero doloroso la crocifissione e la morte in croce di Gesù e la morte mistica di Maria ci immergiamo volando nella mia volontà in questo mistero immenso della morte di Dio della desolazione assoluta testimoniata anche dal creato dal buio in pieno giorno dal terremoto la morte di Gesù il tormento tremendo dagli sconvolgimenti della scanto del combattimento della creazione dinanzi alla tragedia della morte del figlio di Dio ci uniamo alla Vergine Santissima addolorata desolata a colmare di dolore che appunto è provocato una mistica morte anche sofferto è sofferto per noi ci uniamo alla desolazione al piatto sconsolato di Maria Mandalena di San Giovanni dei Vocchi di Scevoli fedeli che hanno resistito dinanzi anche alla montagna di Impropere e di Ingiù di San Giovanni sul corpo dobbiamo sempre pensare che il mistero della croce continua nel tempo continua anche nel tempo dei fedeli e continua anche nel tempo della Chiesa e quando si fa forte il mistero della croce nel momento nel momento in cui sembra prevalere l'osturità sembra che l'abbia vinta il diavolo sembra in ultima parola ce l'abbia male sempre sembra anche se si aggiunge fino alla morte di Gesù che apparentemente sembrava una grande sconfitta proprio in qualche momento il diavolo comprese che era la sua sconfitta non quella di Gesù per stare nella croce per credere fermamente che quella è la vittoria cioè noi cristiani si vince quando si perde apparentemente specialmente per certi sfidi di questo è difficile da mandare giù ma si vince quando si perde perché l'apparente sconfitta è l'alba della risurrezione questo pensiero deve mandarci avanti qualunque cosa accada sempre e nobunque comunque senza paura e sapendo dopo la tragedia del Golgotha sempre segue l'alba radiosa della risurrezione ciò che Gesù fu in quel giorno in cui perdette figura d'uomo rimase solo un ricordo e risorse la sua malità più gloriosa e più sfumorante del sole per non essere più intaccata né dal dolore né dal morto padre nostro che sei nel cielo sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così terra ci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione e non ci indurre la sua malità ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ame o maria pia per noi il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ame o maria piena di grazia adesso è l'ora il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ame o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame ame o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte ame grazie padre il tuo è il tuo spirito santo come era il principio ora e sempre nei secoli dei secoli ame o Gesù perdona le nostre corbe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisogno e per la tua misericordia o maria non c'è vita senza ricato prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono in particolare per i medici della santa chiesa e per quanti ti sono raccomandati salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo Gesù figli di a te sospiriamo gementi e piangenti in questa mano di gloria orso tu avvocata nostra rivolgi a noi gli altri tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pio o roce o regine maria nos cum prolepia grazie 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 grazie